Queste persone decidono o sono, non è italiano, sono decise, nel senso che sono spinte a decidere di fare questo viaggio che è un viaggio che forse li porterà a migliorare la loro condizione di vita e la loro condizione di vita magari dei familiari che sono rimasti nel paese. Marta Conti ci racconterà qualcosa di un pochettino più locale, più legato al territorio grazie alla sua esperienza di consigliere comunale all'Omazzo e di quello che stanno facendo all'Omazzo per quanto riguarda il discorso dei migranti.